Noi abbiamo la presenza dell'industria cartaria nel nostro territorio molto molto importante, soprattutto nella Valle del Liri, come sapete, sul nostro territorio abbiamo oltre 10 aziende importanti che rappresentano il 3% del totale a livello nazionale e occupano circa un migliaio di dipendenti che sono l'8% a livello nazionale, quindi è un settore molto rilevante per il nostro territorio e siamo veramente onorati di ospitare questo congresso, il 54esimo congresso dell'industria cartaria, qui proprio perché dall'industria, dalla valorizzazione di questo settore ci aspettiamo anche uno sviluppo e una crescita del territorio ulteriore. Non ci dimentichiamo, tra l'altro questa è un'industria storica, nasce alla fine del 1800 nella Valle del Liri, anche custode di un patrimonio culturale veramente molto importante, un'industria che vuole crescere, che crede molto anche ovviamente nell'economia circolare, il riciclo, il riuso, il recupero della carta e del cartone voglio dire fa parte oggi integrante di un processo di produzione delle cartiere e noi ci aspettiamo anche che generi anche un circolo virtuoso sul territorio, anche nei territori di Mitrofi, cioè quindi incentivi il recupero della carta e del cartone da imballaggio perché è materia prima, diventa materia prima per le nostre industrie e di fatto va poi nella direzione di quello che è l'impresa sostenibile che noi oggi sosteniamo fortemente. Il territorio in cui ci troviamo è fondamentalmente il secondo distretto per importanza in Italia di produzione cartaria, un'industria che anche se in questo momento può soffrire un po' dei risvolti della crisi energetica che c'è stata negli ultimi mesi, che insomma sono ben noti, è un testimone di come la biocircolarità e la bioeconomia sia veramente una spina dorsale del paese. Siamo diventati la seconda nazione europea come produttori di carta in Europa, sorpassando le nazioni del nord Europa che sono nazioni forestali per tradizione e per vocazione proprio cartaria, grazie al fatto che in Italia siamo direi i migliori riciclatori di carta al mondo, per cui a partire dal nostro sistema di raccolta selettiva per arrivare all'impiego nelle nostre aziende, nelle varie specialità in cui può essere prodotta la carta, siamo decisamente leader nell'utilizzo del macero. L'azienda carteare italiana per sopravvivere ai costi energetici italiani che sono comunque sempre stati più alti d'Europa ha sempre dovuto investire tantissimo in efficienza e in risparmio energetico, diciamo così, per cui ambientalmente siamo sempre stati all'avanguardia e l'intenzione è quella di continuare a restarci. Oggi purtroppo dobbiamo affrontare un'Europa che non si capisce bene che cosa abbia in mente, o meglio si capisce che ha in mente non di continuare a premiare un'industria che ha fatto del riciclo e quindi del virtuosismo ambientale il proprio DNA, ma addirittura vorrebbe favorire il riutilizzo, non si capisce su che schemi ambientali o su che interessi ambientali. Per cui nella speranza che ci sia un ripensamento su queste teorie, la pratica è che l'industria cartaria italiana sta facendo veramente bene dal punto di vista ambientale. Il territorio, l'ho già detto prima, è veramente forte, abbiamo parecchie cartiere storiche e ben radicate nel territorio, per cui il dualismo fra l'associazione di categoria e l'associazione sia locale che nazionale di Confindustria è sempre un andare a braccetto fra i vari interessi e i portatori di interessi, per cui direi che è un ottimo rapporto.